Amore, vieni in letto. Stiamo un po' abbracciati. E me lo chiedi anche. Vengo di corsa. Sono già pronto. Ma ti presenti così? Non è che sei il massimo dell'erotismo. Eh, ma non te ne va mai bene una. Sono così sexy. Senti, io così con te non ci dormo. Me ne vado. Ma dove vai? Vieni qui. Vado da GP, soluzioni in legno. Lì hanno tutte le soluzioni su misura. Così mi faccio fare un letto come dico io e dormo con me. Queste donne non si accontenta di noi. Eppure sono così sexy.